Mi trovo in Via Lago di Viverone, ci troviamo nei pressi dei Giardini Virgilio, c'è lo spartitraffico di Via Alemania Grecia che divide l'area appunto dei Giardini Virgilio da Via Lago di Viverone e ci troviamo in questo polmone di verde che se fosse davvero valorizzato, curato, gestito sarebbe veramente un elemento di pregio, di ricchezza non solo per gli abitanti della zona ma per tutti perché poi parliamo di un polmone di verde frequentato soprattutto da anziani, soprattutto da bambini. Guardate il manto stradale in che condizioni pietose si trova, sembra letteralmente un percorso di guerra, questo ci fa capire come negli anni si è stratificata l'incuria delle varie amministrazioni comunali, in ultimo questa, l'amministrazione Melucci. Toppe, rappezzi, mai un asfalto rifatto come si deve e non stiamo parlando di un fatto per così dire estetico ma di un fatto essenziale, funzionale perché come detto qui ci sono soprattutto anziani che frequentano questa villetta, ci sono le panchine e l'anziano rischia di cadere, parecchie volte è caduto perché proprio l'asfalto è saltato, perché sono state tante, ripeto, tanti gli interventi nel tempo per cui si è creato come dire un abito di arlecchino. Per non parlare poi anche degli stessi tombini il cui livello risulta rialzato rispetto al manto stradale e rappresentano purtroppo una perfetta trappola. Peraltro alcune panchine completamente rotte, senza sedile, divelte, manutenzione pari a zero, anzi sotto zero. Tante promesse da parte dell'amministrazione comunale in questa zona, si sa l'amministrazione Melucci qui doveva venire a buttare le reti per incassare voti e poi come si suol dire chi si è visto si è visto. In altre città d'Italia non è così, in altre città d'Italia il verde pubblico è curato e lo dico io che giro non tanto ma tantissimo, ma oltre al verde pubblico curato quel verde pubblico, quel parco, quella struttura, quel giardino è immerso, è contornato da una pavimentazione, da infrastrutture, insomma tutto ciò che circonda il polmone di verde è adeguato, è funzionale, è vivibile. Qui viviamo, scusate il bisticcio di parole, nella invivibilità assoluta. Qui una persona ha paura, deve stare attenta a salire il gradino del marciapiede perché dopo, perché sotto si trova un dislivello, perché se sta camminando e sta dicendo due parole deve stare attento, deve camminare non guardando in faccia agli altri ma guardando a terra, onde evitare di non incappare in una buca, e idem dicasi, o in un dislivello, e idem dicasi come abbandono per quanto riguarda appunto la sporcizia, è un polmone di verde non curato, si va di tanto in tanto a dare una pulizia di massima, di facciata, proprio quando si è arrivati come dire al peggio del peggio. Che peccato, che peccato. E aspetto da non trascurare ma importantissimo quando qualcuno cade, poi chiede il risarcimento del danno e quando il comune viene condannato a risarcire i danni, formalmente paga il comune, ma di fatto paghiamo noi cittadini contribuenti con le nostre tasse per l'incapacità, l'essere inetti da parte di questa amministrazione comunale. Buttiamo, anzi avete buttato 7 milioni e mezzo di euro per il 6GP, ma immaginate con quei soldi quante zone avremmo migliorato in città, quante pavimentazioni, quanti manti stradali avremmo rifatto ex novo dando una dignità, dando una vivibilità alle varie aree. A partire da questa, perché poi chiaramente ora si crea giustamente una gelosia tra i vari quartieri, perché qui purtroppo a Taranto siamo arrivati al punto che non si fa la gara a chi sta meglio, non c'è da parte dell'amministrazione una gara virtuosa a fare sempre meglio di zona in zona, qui praticamente l'amministrazione fa sempre peggio in ogni quartiere e ogni quartiere è più disperato dell'altro, quasi ci sia una rabbia, una gara a chi giustamente, legittimamente, in modo sacrosanto si lamenta perché è disperato, perché non sa più cosa fare e dice io sto peggio di te, rendiamoci conto chi è Rinaldo Melucci, cosa è l'amministrazione Melucci, un'amministrazione di rendering, di frottole e di inganni, la realtà parla chiaro, la realtà è questa che vi stiamo mostrando e che vedete sotto i vostri occhi. Grazie a tutti.